Se anche a te è capitato di avere problemi con la messa a fuoco manuale, in questo video ti propongo una soluzione che risolverà tutti i tuoi problemi. Andremo infatti a vedere un meccanismo di follow focus che è in grado di mettere a fuoco con precisione e soprattutto potremo mettere a fuoco senza dover toccare la nostra fotocamera e potremo farlo anche dalla distanza perché si tratta di un dispositivo wireless. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e di video. Oggi andiamo a vedere una soluzione in collaborazione con SmallRig, una soluzione che ci permetterà di mettere a fuoco senza toccare la nostra macchina quindi per tutti quelli che vogliono fare per esempio focus stacking, questa è veramente una manna perché se non abbiamo un meccanismo di stacking automatico in camera con questo dispositivo siamo in grado di allineare la nostra messa a fuoco e di realizzare diversi scatti senza mai dover toccare la macchina quindi senza spostamenti o disallineamenti vari. Se invece ci occupiamo di video semplicemente possiamo andare a mettere a fuoco senza toccare la macchina quindi possiamo tenerla su un treppiede, uno stativo o quello che vogliamo e possiamo andare a mettere a fuoco anche stando a metri di distanza semplicemente girando una rotella. Prima di cominciare ricordo a tutti quanti di iscriversi al canale se non l'avete ancora fatto fatemi sapere in un commento se notate differenze perché questo video lo stiamo girando con la Canon EOS R6 invece che con la usuale Canon EOS R7. Il motivo è presto detto, la mia R7 è l'unica macchina su cui ho una cage, una gabbia adatta a montare il dispositivo che andremo a vedere oggi. Eccoci qui con la nostra Canon EOS R7 che ovviamente monta una gabbia di small rig ed è montata su un treppiede pure di small rig quindi oggi siamo totalmente brandizzati. Andiamo innanzitutto a vedere che cosa c'è dentro nella confezione abbiamo ovviamente il dispositivo di follow focus che va a regolare la messa a fuoco sul nostro obiettivo abbiamo la rotella che dovremo tenere in mano oppure fissare da qualche parte con l'apposita vite che ci permetterà di andare a regolare manualmente la nostra messa a fuoco dopodiché abbiamo un paio di rod e di perni che servono per fissare il tutto alla nostra gabbia. Andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto all'interno della nostra custodia rigida, sempre molto apprezzata abbiamo qualcosa che io ci ho messo un po' a trovare ovvero le viti che sono queste due borchie incastonate qui dentro e parimenti abbiamo anche la nostra brugola. Ora ovviamente quello che facciamo è che andiamo a mettere la nostra prima vite all'interno di questo pezzettino che va fissato qui sulla nostra gabbia per cui andiamo a fare un lavoro di questo tipo. Fissiamo il tutto, io qui vado a girare la mia prima vite la blocco più o meno, dopodiché vado a mettere la seconda, vado a mettere la seconda e anche questa vado a bloccarla e a questo punto abbiamo fissato il nostro primo pezzo. Andiamo a prendere il secondo pezzo che è il nostro rod brandizzato di small rig, noi andiamo a infilarlo all'interno del passante andiamo a posizionarlo più o meno a metà. Attenzione ora, questo dispositivo è pensato per obiettivi anche voluminosi noi qui abbiamo un obiettivo piccolo, quindi io qui potrei tenerlo tutto avanti o tutto indietro dipende dalla mia preferenza personale. Siccome io so che il mio follow focus si posizionerà qui posso metterlo a metà in maniera tale che non mi dia fastidio né da una parte né dall'altra e vado a chiudere in maniera che lo fisso e lui non si muove più. A questo punto una cosa un po' tricky perché andiamo ad applicare questo nastro, nastro dentato, che va applicato intorno al nostro obiettivo e che servirà a dare il grip al nostro follow focus, altrimenti non fa presa. Ok, spero che riusciate a vederlo. Lui una volta applicato sta sull'anello di messa a fuoco della nostra ottica e quindi al ruotare dell'uno ruoterà anche l'altro. Noi l'abbiamo fissato e quindi lui non dovrebbe muoversi più. Molto bene, a questo punto ci rimane da montare solamente l'ultimo pezzo ovvero il follow focus vero e proprio che andrà a contatto con l'ottica per cui come avrete già capito andiamo a innestarlo su questo perno. Lui andrà in corrispondenza, quindi qui, andrà in corrispondenza del nostro anello di messa a fuoco, noi lo portiamo a contatto e poi possiamo chiudere la vite. Ma ci sono un paio di cose che dobbiamo considerare prima. La prima cosa è che mentre la nostra rotella è alimentata da una batteria interna, questo pezzo, ovvero il follow focus vero e proprio, deve essere alimentato con una batteria. Non c'è nulla di meglio che la batteria di Small Rig stesso, una batteria che mi era stata mandata e di cui ho già parlato in un video precedente. Tramite il cavetto USB-C in dotazione noi possiamo andare ad alimentare questa parte e con questa piastra sempre di Small Rig che pure mi è stata fornita possiamo andare a fissare la nostra batteria da qualche parte sul nostro rig. Quindi io vado a attaccare la batteria, si accende una lucina e a questo punto possiamo fissarla da qualche parte. Nel mio caso, trattandosi di equipaggiamento tutto compatibile, io l'ho fissata direttamente al treppiede come potete vedere e non so se riuscite a vederla ma qui si accende immediatamente una lucetta verde che ci segnala che l'alimentazione sta avvenendo in maniera corretta. Inoltre questa lucetta ci dice anche su che canale è impostata la ricezione del segnale per andare poi a mettere a fuoco manualmente. Ora attenzione, a questo punto può sembrare che siamo pronti per cominciare a mettere a fuoco e non ci resta che tirare fuori l'ultimo pezzo, ovvero la nostra rotella, che è quella che ci permetterà di manovrare la messa a fuoco e quindi dobbiamo andare ovviamente ad accenderla. Si accende immediatamente e questa lucina verde ci segnala che sono impostate sullo stesso canale di ricezione, quindi dovrebbero a questo punto funzionare in sincrono. Infatti spero che riusciate a vedere che se io giro la rotella lui sta già funzionando. C'è solo un piccolo problema però ed è qui che io personalmente ho riscontrato un po' di difficoltà. Non è che sia difficile da usare o difficile da capire, però se è il vostro primo sistema di follow focus questa cosa va capita bene perché altrimenti poi non funziona. Come avrete giustamente riscontrato, il nostro anello di messa a fuoco ha un inizio e una fine perché c'è un passante e noi non possiamo andare sopra quel passante con il nostro dispositivo. Quindi quello che dobbiamo fare è andare a mettere la nostra messa a fuoco al minimo. Dopodiché quello che dobbiamo fare c'è un pulsante con su scritto cal sopra la nostra rotella che significa calibrazione. Noi andiamo a tenerlo premuto e non so se riuscite a vedere ma la nostra rotella si è messa a girare da sola vorticosamente. A questo punto noi premiamo cal una seconda volta e cominciano a lampeggiare i puntini A e B sulla nostra rotella. Cosa significa questo? La calibrazione significa che noi dobbiamo dire al nostro dispositivo dov'è l'inizio e dov'è la fine della corsa in maniera tale che lui lo sappia e che si fermi nei punti giusti. A questo punto noi andiamo a far scorrere il nostro anello fino a inizio corsa. Dopodiché possiamo posizionarlo e a questo punto e solo a questo punto andiamo a mettere a contatto finalmente la nostra rotella e a questo punto la fissiamo. Ora quello che andiamo a fare è che andiamo manualmente a scorrere all'indietro fino a raggiungere la fine corsa. Ok e nel momento in cui raggiungiamo fine corsa premiamo cal un'altra volta in maniera tale da dire al nostro dispositivo dov'è l'inizio corsa e dov'è la fine corsa. A questo punto sia A che B lampeggeranno insieme e la nostra calibrazione è terminata. A questo punto come vedete io posso andare a operare il mio dispositivo e lui mi va a mettere a fuoco in maniera fluida e seguendo i miei movimenti quindi se io faccio un movimento lento lui metterà a fuoco lentamente se io faccio un movimento rapido metterà a fuoco rapidamente. Devo dire risponde molto bene si sincronizza già da solo abbiamo due canali di sincronizzazione quindi se andiamo a premere due volte il pulsante con il simbolo del wifi andiamo a modificare il canale di ricezione quindi se ci sono problemi di ricezione possiamo modificare il canale su entrambi i dispositivi quindi con un doppio clic su entrambi e il colore passerà da verde a blu e quindi possiamo continuare a mettere a fuoco in maniera assolutamente precisa. A questo punto passo a farvi vedere qualcosa che è stato realizzato con questo meccanismo. iscriviti al canale. opinione globale su questo sistema di follow focus di small rig. Personalmente l'ho trovato un po' difficile da assimilare all'inizio perché è il mio primo sistema di follow focus in assoluto io non ne avevo mai utilizzato un altro in vita mia anche perché io nasco come fotografo quindi mi sto affacciando al videomaking e molte cose non le ho ancora mai fatte quindi questo è il mio primo sistema di follow focus. Devo dire ho fatto un po' fatica a capire come funziona perché sono inesperto se ne avessi usati degli altri sarebbe stato automatico perché in realtà è molto semplice da usare è molto semplice da montare come avete potuto vedere sono due viti si aggancia alla nostra gabbia si fanno passare i passanti e il rod ed è già praticamente allestito. Un'altra cosa che ho trovato un po' tricky da capire anche se sulle istruzioni erano spiegati i passaggi ma sono io che ho fatto un po' fatica a capirlo e però sono qui a spiegarvelo quindi voi non avrete questo problema è il concetto della calibrazione ovvero nel momento in cui noi abbiamo montato tutto non abbiamo finito in realtà il nostro meccanismo non è pronto a funzionare perché dobbiamo dirgli dov'è che comincia e dov'è che finisce il passo dell'anello di messa a fuoco dell'ottica ed è vero che esistono anelli di messa a fuoco che non hanno una fine che continuano a girare all'infinito però continuano a girare all'infinito nonostante siano arrivati a infinito o alla minima distanza quindi noi dobbiamo dire al nostro dispositivo dov'è l'inizio e dov'è la fine in maniera tale che la messa a fuoco poi si comporti di conseguenza sono dei passaggi importanti che dobbiamo fare prima di cominciare a lavorare così dopo non abbiamo problemi di sorta una piccola precisazione ho notato sul mio dispositivo che non riesco ad andare da infinito a minima distanza di messa a fuoco e questo dipende da due fattori che ho identificato e che sono una conseguenza di come io ho allestito il mio rig ovvero io sto usando un'ottica un 35 mm molto piccola e un'ottica con un diametro assolutamente esiguo questo che cosa comporta che l'anello con il passo scalato che noi andiamo a montare intorno va ad abbracciare una circonferenza abbastanza minima e questo significa che non ha il diametro necessario per arrivare dall'inizio alla fine essendo questa anche un'ottica macro quindi un'ottica che ha una distanza di messa a fuoco un po' maggiorata in quanto possiamo andare molto vicino con delle ottiche con un diametro maggiore con delle ottiche più grandi o comunque con delle ottiche non macro riusciremo sicuramente ad arrivare da infinito a inizio corsa senza nessunissimo problema devo dire che a me non crea grossi problemi perché comunque per l'utilizzo che ne faccio io non vado mai dall'inizio alla fine e quindi riesco comunque ad abbracciare il range che mi serve al massimo rifaccio una calibrazione riparto dal punto in cui mi serve e arrivo al punto finale dove dovrò arrivare gli dico che la mia calibrazione è quella e il mio dispositivo mi porta da dove devo cominciare a dove devo finire senza nessunissimo problema devo dire che è anche abbastanza silenzioso fa un pelino di rumore però vi chiedo anche voi l'avete sentito durante questo video mentre io andavo a mettere a fuoco l'avete sentito era molto vicino al microfono tenete conto che se fosse stato lì dove si trova adesso secondo me il rumore non veniva captato dal microfono quindi anche questo è da tenere in considerazione a questo punto signori vi chiedo fatemi sapere in un commento se conoscevate questo sistema se lo usate già se vi interessa per fare fotografie io lo vedo molto bene per fare focus stacking un sistema come questo perché una volta montato sulla nostra ottica macro riusciamo a fare tutti i nostri scatti in sequenza senza più toccare la macchina col nostro comando a distanza mettiamo a fuoco e scattiamo mettiamo a fuoco e scattiamo abbiamo tutti gli scatti che vogliamo senza più nessun problema di disallineamento perché dobbiamo andare a toccare la macchina magari se lo facciamo manualmente se invece stiamo facendo video possiamo andare a mettere a fuoco in maniera fluida e fare dei cambi di fuoco programmati in maniera anche molto più appagante rispetto che stare lì a giocare col barilotto della lente fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate qui sotto in un commento io vi ricordo di iscrivervi per non perdere futuri aggiornamenti perché magari ne riparleremo di tutte queste belle cose che mi ha mandato small rig c'è anche un altro dispositivo sempre di small rig di cui vi devo parlare che mi hanno mandato e con cui sto ancora sperimentando quindi spero che escano in sequenza dovrebbe uscire prima questo poi quell'altro ma se dovesse essere il contrario andate sul canale vi recuperate tutti i contenuti arretrati ovviamente iscrivetevi così non rischiate di perdervi quando escono signori io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video